Il servizio Infopoint sul territorio comunale di Agropoli verrà implementato. Aveva preso il via in occasione delle festività pasquali, limitato al fine settimana. L'operatività a partire da venerdì 14 giugno e per tutta la stagione estiva sarà estesa tutti i giorni. Questi gli orari di apertura. L'Infopoint in Piazza della Repubblica sarà attivo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21. I punti informativi siti al Castello Angioino Aragonese, presso il Palazzo Civico delle Arti, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 24. I punti informativi, afferma il sindaco Adamo Coppola, da venerdì con l'approssimarsi della stagione estiva. Diverranno operativi giornalmente, si tratta di un servizio importante, fondamentale per un paese a vocazione turistica, molto apprezzato dai turisti, ogni anno vede un'utenza sempre più in crescita.